Sempre qui all'inaugurazione incontro Marcella Morvillo di Scaramuè, che cos'è e perché qui presenta? Allora, siamo presenti qui per presentare i nostri dolci, la cui parola chiave è territorialità delle materie prime. Quindi diciamo che il nostro ingrediente principale che fa da conduttore alle nostre produzioni è il latte nobile dell'Appennino Campano. Un latte fresco prodotto da bovini che si alimentano esclusivamente di erba e fieno. Tutto sono altamente selezionato e fortunato. Certo, quindi il latte è privo di additivi, con tutte quelle proprietà, quei valori nutrizionali e tutto ciò che è a norma e che rispetta soprattutto la natura e l'ambiente. Marcella è un po' emozionata, me l'ha detto anche prima. E' qui perché lei è parteattiva di Scaramuè e il suo titolare, il dottor Scogna Mio, non è potuto essere qui. Marcella è una persona molto timida, è una di quelle che lavora molto dietro e che non ama mostrarsi. Io la ringrazio perché è stata presente, ha dato un gran supporto, ha aiutato, ha fatto sì che ci fossero i prodotti, e che tutto potesse essere realizzato stasera. Quindi io la ringrazio tantissimo e soprattutto ringrazio voi che avete portato qui questi prodotti. Grazie. Grazie anche a lei e arrivederci. Buona serata.